Prima ancora della pandemia e della precedente grande recessione, un grave morbo minaccia le società liberal-democratiche dette fino a ieri avanzate. Il crollo delle grasse media che da sempre le ha sostenute, ma è stata attredita. Il libro si propone di individuare le condizioni che realisticamente possano permettere l'organizzazione di un'azione collettiva in grado di riscrivere la storia della nostra contemporaneità.